Eccoci e bentornati sul mio canale breaking news proprio dell'ultimo minuto su call of duty black ops 3 la treyarch tramite il suo profilo twitter ha annunciato l'arrivo nelle prossime settimane di una nuova arma per il dlc 5 zombies chronicles ha proprio dichiarato vi abbiamo sentito forte e chiaro l'm 19 11 è pronta per essere aggiunta nelle prossime settimane nel dlc zombies chronicles quindi rimanete sintonizzati per nuovi aggiornamenti la mitica pistola m 19 11 finalmente la treyarch ha deciso di introdurla nella modalità zombies del dlc zombies chronicles vi farò sapere nei prossimi giorni non appena sarà disponibile e noi ci vediamo con tanti nuovi video